Volete trovare l'oro rubato in casa vostra in Montecchettini Terme? Provate a cercarlo nel negozio di Mollica Pasquale in via Ugo Bassi 42. Il negoziante fotografa l'oro che compra, registra i dati di chi gli vende l'oro, aspetta dieci giorni e lo fa fondere. Ho saputo che l'oro rubato in casa mia è stato venduto in questo negozio. Il commesso che c'era stamani mi ha riferito che mi fa vedere le foto solo se vengo con i carabinieri. Infruttosamente mi sono recata alle forze dell'ordine perché nessuno interviene alle mie richieste. Quindi ho scritto un cartello con la seguente frase Qui comprano e fondono oro rubato. Mi sono messa davanti al negozio in modo che sia il negoziante a chiamare i carabinieri. Infatti, quando il negoziante mi ha vista con il cartello, ha detto che avrebbe chiamato i carabinieri e mi avrebbe fatta arrestare. Io gli ho risposto, faccia pure. Nel frattempo, il proprietario mi ha pure minacciata All'improvviso, il commesso ha strappato via dalla mia mano il cartello. Sono qui a fare il video perché non posso fare null'altro che diffondere questa notizia. Questa gente che ricicla l'oro rubato ha trovato il modo per farlo sparire e forse anche me.